Qualità e convenienza, finalmente anche a Ostia è arrivato il supermercato Pewex. È un giorno che la nostra azienda ha atteso da tanto tempo, da tanti anni, finalmente ci siamo, ce l'abbiamo fatta. Il punto di forza è sicuramente la vocazione che questa azienda ha verso il fresco. Viene svolto tutto un lavoro che è mirato proprio alla valorizzazione del fresco, del rapporto con la clientela. Con la stessa passione che noi diamo nei settori del fresco, anche nell'enoteca c'è un bisogno, c'è una richiesta di specializzazione, c'è una richiesta di assistenza da parte della clientela. Noi consigliamo a tutti magari il vino da scegliere per l'occasione. Realmente è arrivata l'apertura del 26esimo punto vendita a Ostia e abbiamo delle grandi aspettative su questa apertura. Ciò che il nostro augurio è quello di riuscire a trasmettere i valori ai nostri clienti, come abbiamo fatto fino ad oggi, e i valori oltre che per il fresco, per la passione che viene messa nell'offerta e nella scelta di prodotti di grande qualità, a un prezzo ottimale, ma soprattutto un altro valore che ci impegneremo a trasmettere l'importanza verso i nostri clienti. Ad esempio il martedì c'è lo sconto per i pensionati ed il giovedì lo sconto per i disoccupati. Tra i punti di forza anche un settore interamente dedicato al sushi. Si tratta di un prodotto freschissimo, come vedete viene lavorato giornalmente, viene fatto proprio sul momento e viene venduto direttamente dal banco alla clientela ed è un prodotto estremamente fresco. Solo grande qualità, ma la bellezza della Pevex, di questo brand, è aver saputo coniugare tradizione, qualità e prezzo accessibile. Prendere un prodotto di qualità e venderlo caro, sono capaci tutti. La genialità è di prendere un prodotto di altissima qualità e renderlo accessibile a tutti. E' contenta di questa apertura? Sì, perché mi rimane vicino casa, prima andavo giù in fondo vicino all'affaiatore e adesso sono contenta. E' una buona marca e i prezzi sono buoni. Conosceva già Pevex? Sì, lo conoscevo, però a Ossia ancora non c'era, perciò siamo molto contenti per quello. Sono stata molto colpita dal negozio per l'esposizione e la grandezza, e soprattutto per la varietà e la possibilità di scelta di tutti i prodotti. Allora, vediamo che stai prendendo il pane proprio in questo momento. Sai che è pane sempre fresco, appena realizzato. Sì, proprio la signora mi stava dicendo che questo è pane di loro produzione, infatti abbiamo scelto e preferito proprio questo. Molto bello, non vediamo l'ora di finire il giro. È molto distribuito bene, è fatto proprio bene, mi piace, mi piace molto. Il supermercato Pevex è aperto tutti i giorni, da lunedì alla domenica dalle 8 alle 21. Vi aspetta in via Isole del Capoverde 105 a Ossia.